Si terrà sabato la cerimonia di inaugurazione all'Oano del nuovo centro di solidarietà CES di Genova. La struttura sarà operativa nel convento degli Agustiniani. L'associazione, che dal 1973 è impegnata nella solidarietà, è oggi anche uno degli enti gestori che si occupano di accoglienza. Il centro è stato fondato nel 1973 da Bianca Costa Bozzo, artefice di numerose iniziative tutte volte al mondo della solidarietà verso i più deboli. Da sempre destinata alle opere di misericordia, il convento degli Agustiniani di Loano torna così ad animarsi con le attività del CES Genova. In accordo con la prefettura di Savona adesso arriveranno i primi dieci profughi, numero che è destinato ad aumentare, fino alla soglia di 25 prevista per la città di Loano. Il piano a terra della struttura rimarrà comunque a disposizione anche delle associazioni locali, con le quali il CES Genova si augura di instaurare un proficuo rapporto di collaborazione. L'appuntamento di sabato prevede alle 18 una santa messa celebrata da Don Nivo Raimondo, vicario generale della diocese di Imperialbenga, coadjuvato da Don Edomondo Bianco e Don Enrico Giovannini. A seguire alle 19 si terrà un concerto per voci solista, organo e trombe. A particolarmente ci interesse nell'incontro per per la città dei . L'aff whale dell'aff trên isra santa pubblic